attenzione conte denuncia l'amichettismo di sinistra così come quello di destra che cos'è l'amichettismo prima domanda l'amichettismo che cos'è ogni tanto si inventano nomi nuovi cose particolari l'amichettismo l'amichettismo è grazioso come termine ed è un termine usato adesso da tutte le opposizioni contro una destra che favorisce gli amici a prescindere dalla qualità dalle competenze dai curricula da una serie di cose che tutti vantano come cose importanti pensate che questo governo addirittura ha titolato il ministero dell'istruzione del merito per tutto con tutto il rispetto una grande assurdità perché il ministero dell'istruzione anzi io preferisco che si chiama il ministero della pubblica istruzione come era una volta perché l'istruzione deve essere pubblica è uno stato civile una repubblica degna di questo nome deve garantire a tutti i cittadini la stessa istruzione a tutti queste sono proprio l'abc addirittura direi dalla rivoluzione francese quindi figuriamo quindi il ministero dell'istruzione del merito è l'aggiunta merito è ridicola perché è ridicola perché dovrebbe essere ovvio che il ministero dell'istruzione aiuti anche al merito oppure quando arriva poi la sinistra si chiamerà ministero dell'istruzione dell'inclusione e della disponibilità e dell'accoglienza ma può mai essere che valori elementari e universali come quelli di dare valore al merito e di dare un aiuto alle persone più in difficoltà sono degli elementi che dovrebbero essere di differenza politica ma in quale paese manicomio siamo finiti e perché dico questo perché l'amichettismo che segnala conte che vale per la rai ma con tutto il rispetto non vale solo per la rai vale per molti settori dove si privilegiano le persone conosciute gli amici per l'appunto piuttosto che le persone competenti poi se uno ha un amico che è anche competente benissimo ma per la scelta deve valere la competenza santi dio è l'abc della normalità così come se delle persone sono in difficoltà anche se non hanno grandissime capacità vanno aiutate perché l'aiuto e la solidarietà non è alternativo al merito è chiaro cioè per ci sono attività dove chi ha più merito deve essere aiutato ed è sacrosanto perché ha studiato se è fatto il mazzo ha studiato deve avere riconosciuto il merito altrettanto vero è che se una persona in difficoltà non è che la butti e la lasci da qualche parte al contrario li aiuti a migliorarsi deve essere queste due cose devono essere nemiche ma in quale posto dimenticati siamo se devono essere se uno da una parte deve scrivere vicino al ministero dell'istruzione il merito come se abitualmente nell'istruzione non si dovesse tenere conto del merito o come se dall'altra parte dovremmo in futuro scrivere dell'inclusione e dell'aiuto a quelli più in difficoltà come se uno mi dando sostegno al merito vuole escludere le persone che hanno difficoltà ripeto basta basta con il festival delle cazzate che in questo paese ci sta rompendo le scatole perché veramente è intollerabile e allora quando conte dice l'amichettismo dice una cosa sacrosanta cosa vuol dire l'amichettismo che alla rai troppe volte sono stati favoriti quelli che erano amici amici del come dire del governo di turno ma ha detto anche che questa cosa la sta facendo la destra in modo devo dire spudorato ma l'ha fatta anche il centro sinistra o no non lascia stare che io e come dire i verdi eravamo fuori da queste cose vedo anche che c'è qualche mentecatta autentico che parla a bambera e che dice che secondo lui noi abbiamo come dire la faccia ma quali cretini possono parlare dopo che questa destra che si definisce patriottica per fare un regalo a salvini fa quello che nemmeno berlusconi ha mai voluto fare cioè sfasciare l'italia per fare un regalo a salvini ma vi rendete conto che siamo in un parlamento dove le opposizioni cantavano l'inno nazionale che inizia con fratelli d'italia e un partito che si chiama fratelli d'italia doveva votare o torto collo lo capisco perché stavano proprio come la fune in canna come si vuol dire votavano per un'autonomia differenziata che è una vergogna e uno sfascio per il paese e lo votano un partito che si chiama fratelli d'italia ma statevi zitti ma questi quattro accattoni che ancora osano difendere questa cultura di un patriottismo da catto perché un patriota non sfascia la patria o no è almeno questo l'abc o no ma se adesso si svendono addirittura pezzi di importanti aziende di stato come le ferrovie e le poste e ancora si può dire che uno è patriottico facendo queste cose ma almeno dite che non siete riusciti che siete sotto ricatto della lega che salvini vi tiene come dire vi tiene per la collotto ecco mettiamo così vi tiene per per dietro e quindi non riuscite a fare cosa ma di come è possibile che abbiamo sì un paese di mente catti mi hanno limitato il filo perché ho detto che gli italiani hanno votato questo governo beh devo dire gli italiani diciamo gli italiani hanno votato ma con questa legge elettorale pessima che dobbiamo abolire gli italiani hanno votato una minoranza votato per la destra che ha avuto un premio di maggioranza esorbitante esorbitante perché uno può anche avere un premio di maggioranza cioè se l'ottanta per cento gli italiani li votavano non potevi dire di no ma se l'ha votato in meno del cinquanta per cento hanno avuto più del sessanta per cento dei seggi in parlamento questo significa che la legge elettorale è fatta in modo truffaldino cioè amplia troppo il voto questo è allora torniamo a noi conte a tratto che cazzo come parlate a bambara sto dicendo che conte ha detto che non solo la destra ma anche la sinistra nelle nomi alla rai ha fatto amichettismo e c'è un cretino che viene a dire ma come mai che parlate che parlate abbiamo detto c'è ho detto addirittura che anche la sinistra ha sbagliato è uno talmente deficiente che non capisce che in questo caso stavamo parlando di una accusa di conte che andava sia verso la destra che verso il centro sinistra ha ragione conte domanda io penso che anche il centro sinistra abbia fatto molte volte nomine di amici poi io ero in un'alleanza di centro sinistra ma rappresentava un partito che era fuori da queste logiche tant'è vero che storicamente i verdi non avevano come dire e tant'è vero che non è che si parlava tanto dei temi ambientali adesso se ne parla perché sono rilevanti e se ne parla molte volte a bambera perché io sono cosetto a fare i dibattiti surreali l'ultimo l'ho fatto quando è stato mi ricordo venerdì credo venerdì sì venerdì ho fatto un dibattito surreale su tagadalla 7 non surreale perché non ho bravo anzi due conduttori molto bravi devo dire capaci molto brava anche la la giovane dei verdi europei che teneva bene il punto ma c'era un giornalista collegato che addirittura accusava gli ambientalisti l'ambiente di tutti i problemi cioè in un mondo dominato dalle multinazionali e dalle lobby delle armi del petrolio della farmaceutica muo e vedere che il grande problema erano i giovani che buttavano la vernice lavabile avanti al senato ma con quanta con quale faccia tosta si può dire questo ma può essere che sono più per quella lobby preoccupante qual era era quella dei giovani che usavano la vernice colorata o la vernice lavabile cioè con le lobby delle armi che finanziano e aiutano decine di guerre disastrose che ammazzano centinaia di migliaia di persone la lobby più preoccupante per questo giornalista qual era era quella dei giovani che usavano la vernice lavabile avanti al senato come se poi il senato fosse stato danneggiato nella sua dignità dalla vernice lavabile di questi ragazzi e non da senatori discutibili che hanno fatto cose pessime ma basta per favore ma non è possibile noi dobbiamo su questo riempire di affettuose contestazioni non di insulti voi sapete io sono contro gli insulti però sono perché si esprima la verità delle cose e la verità delle cose è che le lobby preoccupanti sono quelle dei combustibili fossili che non vogliono fare marcia indietro e vogliono portarci verso la crisi climatica sempre più drammatica questo gennaio in questi giorni c'erano i famosi giorni della merla si chiamano così i giorni più freddi dell'anno avete freddo a vedete questo gelo incredibile vi siete accorti che siamo in un gennaio dove non c'è sostanzialmente l'inverno ho visto scambi sono rimasto allibito non posso nemmeno intervenire a quello che penso perché rischierei anche io di dire qualche cattiva parola io penso che al di là delle cose caratteriali personali che su alcune cose sono discutibili non può uno che fa il sottosegretario usare quei termini non esiste ma devo dire quella è un episodio ma ancora più grave è che adesso oggi per esempio sono stati convocati capi di stato africani a roma per un grande evento per dire quanto l'italia si vuole impegnare per l'africa io sono d'accordo che l'italia si impegni per l'africa invece no le lobby preoccupanti sono quelle della dell'economia che ci stanno buttando adesso in giù ma certo sono tutte queste quelli che scrivono queste demenze sono persone frustrate dice doria e ragione in spagna 28 gradi altro che giorno della merda ma fa fa caldo fa caldo ma relativamente al mese sarà il gennaio vedrete più caldo di sempre perché ormai siamo al 29 30 31 e sarà il gennaio più caldo di sempre e tutto questo è casuale ma avete capito che non piove vi rendete conto che non piove vi rendete conto che se continua a non piovere anche se abbiamo gli invasi dove abbiamo gli invasi non riusciamo a riempirli gli invasi sono quelle grandi dighe che cercano di raccogliere l'acqua quando ce n'è tanta la la sardegna si è salvata negli anni scorsi dalla siccità perché comunque piovendo anche in modo irregolare con piogge molto forti in un periodo assenti in un altro riempiva gli invasi questa volta non ci sono proprio le piogge né quelle forti né quelle deboli e la sardegna rischia di avere un drammatico momento di crisi di crisi idrica allora solo dei pazzi si accordano in sicilia non ha piovuto per nulla dice leonora perfetto e allora queste cose vogliamo occuparcene vogliamo occuparci anche di capire in modo intelligente prima che ci obbligheranno ad avere dei dissalatori costosissimi a terra ovunque se invece ci possiamo avere le navi di salatrici se possiamo iniziare a migliorare gli invasi che possono raccogliere l'acqua vogliamo capire e fare una previsione di quali possono essere le piogge in futuro cioè di queste cose dovremmo occuparci e invece siamo costretti a parlare adesso di questo grande progetto cosiddetto piano mattei che in teoria è un piano in cui l'italia vuole sostenere l'africa perfetto io sono d'accordissimo sono sempre stato d'accordo io sono l'unico l'unico ministro dell'ambiente europeo che andai in mali a bamaco a fare la conferenza contro la desertificazione dell'africa mentre tutti gli altri miei colleghi mandavano i direttori perché avevano paura della malaria io mi presmi mi coprì tutto quanto per evitare di essere punto da qualche pericolosa zanzara con il rischio della malaria ma andai di persona per cercare di sostenere assolutamente le le attività di sostegno all'africa finanziamo un progetto abbiamo lavorato per dare la capacità di raccogliere l'acqua a chi non poteva raccogliere l'acqua non avevano le pompe per l'acqua per irrigare creare le risa e quindi sono d'accordo ma non è pensabile che fai un progetto lo chiami piano mattei e ti fai dire dall'unione africana oggi qui in una conferenza internazionale che volevano essere consultati perché è ovvio che devi consultare coloro con cui vuoi fare un piano di investimento in africa sono giusti i piani di investimento in africa vanno fatti in modo intelligente c'è questo progetto che ha fatto l'organizzazione dei farmer market internazionali organizzata da agricoltori italiani io ho avuto occasione di incotare dei farmer market africani l'hanno fatta con gli africani qualcuno ha detto inopinatamente che era un'operazione fatta dagli americani ma quali americani ci sono anche farmer market americani ma sono quegli americani che sono contro le multinazionali americani arroganti quindi sono quella parte gli americani che insieme a jeremy rifkin e alle persone che con slow food hanno creato l'alternativa alle logiche perverse americane stanno lavorando in questa direzione ebbene io spero che si facciano piani condivisi con le popolazioni locali perché questo è fondamentale le cose vanno condivise non devono essere canate dall'alto e questo è fondamentale io sono convinto che ci si riuscirà allora lavoriamo in questa direzione lavoriamo bene in questa direzione io ripeto considero giusta l'inter giusto l'intervento di conte sul tema dell'amichettismo che riguarda tanti settori dove si continuano a mettere gli amici e non i competenti santi dio abbiamo bisogno di gente capace guardate che i fondi del pnr rischiamo di perdere se non si lavora bene a mettere persone capaci che siano in grado di gestire tutta questa mole di risorse se no conte ne ha presi quei soldi la meloni già ne ha persi alcuni ma si rischia di avere un danno per l'italia complessivamente e quindi noi queste cose dobbiamo ricordarcelo io colgo l'occasione per fare i complimenti a sinner l'ho fatto anche in un post perché è stato veramente un ragazzo d'oro capace tenace una bella immagine dell'italia alternativa allo spacca italia di calderò di questa gente qua l'altra considerazione che voglio fare è di invitarvi a seguire anche in streaming anche in streaming un bellissimo evento che faremo a milano il 2 di il 2 di febbraio venerdì mattina dalle dieci e mezza in poi e io faremo un evento con tutti i giovani che racconteranno esperienze di innovazione ecologica e digitale ci sarà anche l'assessore al comune di milano ci sarà il capogruppo dei 5 stella in regione lombardia è un evento realizzato per rilanciare in lombardia questa questa sfida della transizione ecologica e digitale ma anche per puntare su questi giovani io credo che i giovani di oggi che fanno le start up che investono energia che raccolgono un sacco di soldi con capacità anche di parlare con i mercati finanziari in positiva e non farsi diventare strumenti sono un pezzo della classe dirigente del domani cioè io credo che questa classe dirigente attuale non è facile aggiustarla e quindi la soluzione è iniziare a investire sui nostri giovani ma non solo sui giovani anche su persone ovviamente più grandi che fanno cose belle giuste e che vogliono il bene dell'italia perché loro devono essere la classe dirigente del futuro quando la costruiamo sta classe dirigente se non restano sempre gli amichetti e gli amici degli amici basta un po di innovazione di innovazione forte ci vuole e io spero che anche in questa prossima tornata di elezioni amministrative si parte con le elezioni in sardegna il 25 di febbraio si continua con le elezioni a marzo dell'abruzzo ci sarà una grande tornata elettorale amministrativa e anche le europee ovviamente a giugno facciamo in modo che ci siano candidature di persone nuove di persone giovani o anche di persone che si mettono in gioco non per forza giovani quelli che rappresentano la capacità di innovazione perché io ricordo sempre che il professor de masi che purtroppo ci ha lasciati era un ottantenne che io avrei candidato dieci volte di più dei trentenni a cambiare le cose perché era di una grande capacità innovativa e di una grande sfida culturale quindi lavoriamo per rilanciare questo paese la determinazione dobbiamo avere contro lo spacca itale contro l'autonomia differenziata deve essere dura e continua dobbiamo fargliela non gliela dobbiamo far passare con l'opposizione parlamentare con l'appello a mattarella a non firmare con il referendum se sarà necessario fare un referendum ma noi non possiamo accettare che si spacchi l'itale per fare un regalo a salvini e calderoli vi prego c'è un limite anche alla follia di questo paese io vi saluto vi auguro una buona serata vi auguro anche il lei che accusa gli altri amichettismo e perché faccio ridere ne poveretta allora abbiamo una serie di rimbambiti che parlano a bambera che vanno solo cacciati a pedate perché noi abbiamo scelto sempre persone di qualità questa è la differenza io sapete chi avevo come consigliere al ministero dell'ambiente io io avevo carlo rubia premio nobel germy rifkin economista americano di grande valore presidente della commissione valutazione impattamentale il professor stefano rodotà ma sapete chi hanno in genere i governi di destra ma per favore ma per favore e rubia rifkin erano gratuitamente consiglieri per l'innovazione rinnovabile c'è del ministro dell'ambiente perché potevo avevo il prestigio anche di convincere persone di questa qualità stare con me questa è la differenza capito allora vergognatevi gente ma manco a essere di destra si tratta di essere dei mentecatti se non si capisce che continuate a mettere gli amici parenti e soltanto questi qua non va da nessuna parte non è una bella cosa poi non è detto che non ci sia qualche amico eccetera che è anche capace e competenze ma non può essere quello l'elemento determinante l'amicizia personale o politica perché in molti casi l'amicettismo significa come dire quel meccanismo di sentirsi sodali di un certo idea politica ma questo è buono quando tu ragioni insieme e vuoi lavorare insieme e ci sta ma le scelte per gli incarichi che hanno elementi di valore devono essere fatte secondo criteri di merito punto e possibilmente trasparenti aperti che tutti possano vedere e questo è quindi che conto e credo e credo onestamente che bisogna andare avanti con determinazione a dire la verità io vi saluto e vi auguro una buona serata ciao ciao